Salve a tutti e ben ritrovati all'Agri Week Recap. Questa settimana è stata una settimana particolare nella quale sono stato due giorni a Berlino per il fruit logistica, la più importante fiera dell'ortofrutta nel mondo, dove la Regione Campania è stata come sempre protagonista con i suoi produttori di ortofrutta, con le OP, c'è stata davvero una grande tensione positiva, ho incontrato moltissimi operatori, ci sono state molte tavole rotonde, abbiamo parlato di agricoltura, del contesto nel quale ci muoviamo in questo momento per effetto della guerra, ma abbiamo anche discusso delle problematiche specifiche del settore, della necessità di una modifica dell'OCM, ma anche delle prospettive delle OP. È stata davvero due giorni molto significativa, ho appreso ancora tante altre cose dagli operatori e trarrò spunto da questi loro input anche per mettere in campo azioni migliorative in futuro. In Regione c'è stato il tavolo tecnico sulla Brucellosi, abbiamo affrontato le questioni che ci sono state poste dall'associazione di categoria, dagli allevatori singoli e dalle amministrazioni comunali e stiamo definendo proprio in queste ore l'elaborazione di un documento esplicativo per rassicurare gli operatori, perché penso che ci sia una grandissima confusione, talvolta alimentata strumentalmente da qualcuno per determinare una condizione di insoddisfazione. Il piano è un piano corretto, è un piano che abbiamo definito anche sulla base degli input degli allevatori e su questa linea stiamo lavorando per specificare meglio quelli che sono i contenuti, soprattutto focalizzando sulla questione della vaccinazione, dell'autocontrollo e della tempistica della diagnostica. Questi sono i punti fondamentali che verranno esplicitati in questa nota. Sempre per la questione Brucellosi abbiamo incontrato il commissario, il direttore del consorzio di bonifica del Volturno, con i quali stiamo lavorando davvero con grande sinergia per definire le progettualità che abbiamo in campo e che sono state anche indicate nella delibera di approvazione del piano sulla Brucellosi e quindi la previsione di un progetto per il monitoraggio anche satellitare insieme all'università per utilizzare tutti gli strumenti per far fronte a questa problematica importante. C'è la questione delle idrovore, della foce del Volturno, questione che dobbiamo assolutamente risolvere, che le progettualità sono già a buon punto e poi c'è infine la bonifica dei canali del territorio per sanificare la zona. Quindi stiamo lavorando davvero in maniera determinata e se a questo poi aggiungiamo anche le misure che abbiamo messo in campo come PSR, quindi le misure della 411 settore bufalino e la misura su welfare animale e la misura per l'aspetto ambientale degli allevamenti ci rendiamo conto che davvero stiamo mettendo davvero in campo azioni sinergiche per debellare definitivamente questa Brucellosi dai nostri allevamenti. Lunedì abbiamo inaugurato, abbiamo fatto una conferenza stampa di start per l'osservatorio faunistico venatorio regionale, un importante organismo che abbiamo voluto con grande determinazione e che servirà per aiutarci a gestire meglio i dati delle migrazioni e per soprattutto tutelare meglio il nostro ambiente. Questa è una pratica che ci porta davvero all'avanguardia rispetto anche alle altre regioni, il cui primo compito di questo osservatorio sarà proprio la redazione del piano faunistico regionale e anche spingere in maniera più determinata sui piani faunistici provinciali. Ho partecipato al congresso regionale della CIA che ha portato all'elezione del nuovo presidente, l'amico Raffaele Amore, ho augurato a lui un buon lavoro, ho salutato anche il ormai past president Alessandro Mastrocinque, il direttore Mario Grassi, è stata una bella giornata di riflessione sull'agricoltura e ho avuto modo anche di precisare quello che stiamo facendo per contrastare questo particolare momento di crisi delle imprese agricole. Con la CIA c'è un rapporto fortemente collaborativo, io sono molto soddisfatto degli input che mi pervengono quasi quotidianamente dallo staff tecnico ma anche dallo staff politico e con loro stiamo ragionando in termini propositivi su quella che dovrà essere l'agricoltura degli anni futuri. In questa settimana ovviamente è continuato il lavoro per l'AGIAC dove stiamo cercando di definire tutte le pratiche burocratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione e abbiamo discusso di nuovo del distretto unico del vino della Campania, ormai siamo quasi alla definizione dei dettagli, siamo sulla buona strada, c'è stata una importante riunione con la dottoressa Casillo nella quale abbiamo discusso delle vicende relative al supporto informativo della nostra agricoltura, in particolare il chi siamo dell'agricoltura della nostra regione non è ancora chiaro perché non abbiamo ancora la possibilità di gestire i dati delle nostre produzioni e quindi ci stiamo attrezzando per poter in qualche modo meglio seguire le varie filiere con cognizioni di causa e consapevolezza di territorio. Ci sono stati ovviamente tantissimi altri incontri, ho incontrato gli operatori del settore del Tonno e tante altre persone, ma mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana, il saluto particolare di quest'oggi va a Carlo De Riso, il mio amico Carlo De Riso, grande operatore del settore degli agrumi e dei limoni della costa d'Amalfi in particolare ed è famoso nel mondo anche per la sua Caprio Cab, ormai è divenuta davvero un punto di attrazione turistica del territorio. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao a tutti.